Inizia nel migliore dei modi la stagione di Davide Baldaccini. Il 13enne dalla paladina scuola ciclismo Ivan Gotti ha vinto a Calusco il 43esimo trofeo ed il service, prima gara dell'anno per gli esordienti. L'atleta di San Giovanni Bianco ha regolato in uno sprint ristretto Alessandro Covi e Stefano Aldani, con cui si era abbandaggiato nel corso dell'ultima delle quattro tornate. Un finale vibrante al termine di una corsa molto vivace, caratterizzata dai tentativi da lontano di Samuele Arena, Simone Bezzoli e Diego Gerardi, tutti e tre poi piazzatisi tra i primi dieci. Più lenta invece la prova degli esordienti primo anno. A vincere è stato involata Andrea Baggioli. Il valtellinese ha preceduto Paolo Castelli della Pagnoncelli e Lorenzo Davini della Polisportiva Albano. Tra i dieci anche il vertovese Mattia Pedrini, sesto, e William Colleoni, che con il suo decimo posto ha contribuito al successo della Polisportiva Albano nella classifica di società.